L'ultima di questo 2007 per il Napoli e per il Torino, buon pomeriggio dallo stadio San Paolo Gargano per Zalageta, in area di rigore cerca di girarsi, Zalageta ancora Gargano la palla all'inza, Zalageta, Sereni, che miracolo di Sereni su Zalageta Zanetti dentro per Bielanovic, Domizzi riesce a salvare con il braccio, calcio di rigore questo è piede netto, assolutamente non è rigore La rincorsa di Rosina, il Torino in vantaggio con Alessandro Rosina al 36esimo su un rigore che non c'è Il giallo per Grella, il giallo per Grella che era già ammonito fuori Grella, fuori Grella Domizzi prova la conclusione, Sereni Lavezzi salta proprio di Loreto, Amsic dentro per Zalageta, Zalageta salta il portiere esce il calcio di rigore per il Napoli adesso secondo me non c'è Domizzi contro Sereni, Sereni pare il rigore Sereni pare il rigore a Domizzi, il Torino resta in vantaggio Eccolo il cross di Garic, per Amsic il controllo, in mezzo a due, Bogliacino Attenzione, recupera Di Michele, la posizione regolare perché al di là della metà campo Di Michele, entra in area di rigore, Di Michele, Di Michele entra in area, Di Michele Lavorosa occasione per raddoppiare e chiudere la partita per il Torino Amsic Eccolo il suo cross, Domizzi Fontana Dentro, balla bassa per Sosa, la sponda Amsic 1-1 Marek Amsic Garic Salageta ancora Garic entra in area di rigore Garic cerca lo spazio per il cross Fontana E Fontana ancora in due tempi Salageta, la porta è vuota C'è un fallo in attacco del Napoli C'è un fallo in attacco del Napoli Il lancio per Sosa La sponda, la prende lui Calaio Palo Finisce qui Finisce Napoli-Torino Finisce il 2007 di Napoli-Torino Tra gli applausi del pubblico Perché meritano gli applausi